questa è talc sport radio dall'inghilterra 1089 kHz guardate in che qualità audio si qui in ponza island spettacolare l'onda media qui nell'isola tramonto del sole l'isola di palmarola giù il mare è questa qui è top sport radio dall'inghilterra veramente spettacolare la qualità audio l'isola di london firebligato non puoi avere 60,000 cittadini perché c'è il river